Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Non fateci caso all'ambientazione Perché sono a casa della Ele Sto parlando del video reaction di Mercy Del video ufficiale di Showman Quello nuovo E' uscito ieri, è uscito ieri Sono curiosissima, devo vederlo, devo vederlo, devo vederlo Pronti? Via Mamma mia Acqua C'è l'acqua Oddio mi muore la Madonna Mi sa nero Madonna Guitarra Prendor Ah perché amore Madonna no, no, no Madonna, i miei piani Oh, i capelli I capelli Madonna, fate riuscire La batteria Ho un debole Ho un debole per la batteria E il batterista Quindi se lui si mette solo la batteria non va bene Ho un debole Ho un debole Chiudatelo Per favore Donna, che cos'è? No Ma Sta legando Arrivo io Ti salvo Ehi, va bene La batteria La chitarra Muota Aspetta Oh, crowded Madonna Ma, là tonne Visste c'èri L'amhe si, donna, aiuto, madonna, perché, 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 santo cielo, santo cielo, basta, è finito, ok, ok, wow, è stata una doccia fredda anche per me, cioè non potete capire, acqua, batteria, lui, no, queste cose non vanno bene insieme, no, madonna, madonna, che cavolo di video è, direi, non male, assolutamente non male, bella canzone l'avevo già sentita, e già mi piaceva tantissimo, era bellissimo, davvero bellissimo, ma è questo video, va bene, sembra una pazza psicopatica, non importa, e io questo qua devo vederlo dal vivo, cioè tra un po' di mese, no, no, non arrivo a casa sana e sana, questo è ovvio, va bene, non importa, comunque il video è fantastico, lui è meraviglioso, la canzone è meravigliosa, è tutto meraviglioso, ottimo, e direi che il video si conclude qui, assolutamente, perché io devo andare a bere, perché sono disidratata dopo questo video, se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuto il suo video, lasciate un bel like, se avete dei commenti da fare qui sotto, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!